Partito Democratico e Cinque Stelle hanno paura del confronto e hanno fretta di andare in vacanza. Per questo hanno impedito alla Camera dei Deputati di discutere la più importante legge di questo Stato, la legge di bilancio. Ci batteremo in ogni sede per far rispettare i diritti e la Costituzione. Questa mattina avete occupato simbolicamente due commissioni bicamerali. Che cosa avete fatto? Abbiamo insediato simbolicamente le due commissioni che dovevano insediarsi oggi, il Forteto e le banche. E avremmo potuto evitare, se si fossero insediate, quando sono state istituite all'unanimità da parte del Parlamento, tante questioni come quella di Bibiano probabilmente, ma soprattutto la vicenda delle banche che in queste ore stiamo valutando, che costerà ancora tanti soldi agli italiani. Quindi abbiamo denunciato il fatto che qualcuno ha paura di farle insediare, ha paura delle inchieste di quello che può uscire. Chi ha paura ha nome e cognome, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, evidentemente loro compi.